Siero dato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica Santi e caffè. Oggi è martedì 10 maggio. La Chiesa celebra la festa nel rito tradizionale di Sant'Antonino, vescovo di Firenze appartenuto all'ordine dei predicatori di San Domenico di Guzman. Un santo che ha lasciato una traccia indelebile nella Firenze tardo rinascimentale, anzi più che tardo, proprio rinascimentale, e che con la sua predicazione ha infiammato i cuori dei fiorentini in quelle fasi alterne e difficili, anche talora, che caratterizzavano la storia d'Italia di quell'epoca. Ma noi stiamo andando avanti con questo mese di maggio dedicato alla Madonna, miei cari figlioli. Intanto vorrei ringraziare la Madonna che accompagna i nostri passi per il momento di preghiera che c'è stato ieri. È stata la prima volta che abbiamo fatto le preghiere di guarigione e di purificazione dell'albero genealogico e mi hanno detto i miei collaboratori che c'erano più di 1600 persone in diretta che seguivano la preghiera. Bene, questo a me riempie di gioia non per i numeri, ma perché così la buona azione pastorale, quella efficace, si diffonde, grazie a Dio, in maniera sempre più intensa. Ringraziamo la Madonna. In realtà a riguardo vi ricordo, come già anticipato domenica sera e poi abbondantemente ieri, che questa sera alle 21.15 ci sarà una catechesi importantissima dal titolo L'Anticristo profezie e interpretazione. C'è già il post su Radio Domina, ve lo mostro, c'è il mio volto, così hanno scelto i collaboratori, eccolo qui. Condividete, condividete, condividete perché tanta gente possa, anche nuova, collegarsi e approfondire le tematiche che non vengono più trattate. A dire il vero, io ho parlato più volte dell'Anticristo nella mia predicazione, ne tratto anche nel mio libro sull'Apocalisse, la Sinfonia dell'Agnello. Chi ha letto il libro lo sa, ci sono alcune sezioni dedicate all'Anticristo, però eccolo qui, il libro, la Sinfonia dell'Agnello, il mio commento teologico al libro dell'Apocalisse. Però ci sono anche tante profezie che naturalmente io non ho inserito nel libro, che meritano di essere conosciute sull'Anticristo. Quindi vi aspetto questa sera sul canale YouTube di Radio Domina, dove è sempre possibile iscriversi, basta cliccare, fatelo così aumentiamo di numero e così vi aspetto per la Catechesi. Intanto oggi è il 10 maggio, siamo nella settimana che prepara la festa della Madonna di Fatima. Abbiamo domenica scorsa celebrato, due giorni fa, la Madonna del Rosario di Pompei e già guardiamo alla prossima festa mariana di questo mese di maggio, che è il 13 maggio, l'anniversario della prima apparizione della Madonna a Fatima, ai tre pastorelli. Era il 13 maggio del 1917 e la Madonna è venuta chiamandosi regina del Rosario, chiedendo da subito, alla fine della prima apparizione, che si pregasse il Rosario perché potesse finire la prima guerra mondiale e l'umanità venisse risparmiata dai castigli successivi. Noi invece adesso proseguiamo la lettura del nostro testo che ci sta accompagnando in questi giorni mariani, il segreto meraviglioso del Santo Rosario per convertirsi e salvarsi l'anima, scritto da San Luigi Maria Grignoda Monfort quando ormai era vicino alla morte, un testo molto bello che potete trovare, come più volte ho detto, in pdf su internet che fareste bene a scaricarvi e a leggere. È un testo semplice ma profondo. Noi abbiamo visto tutta l'introduzione quando il Monforte si rivolge ai sacerdoti, ai peccatori, alle anime devote, ai fanciulli e poi qui e lì abbiamo visto la prima, la seconda, la terza rosa. Oggi voglio leggervi da quarta rosa che è molto singolare, collega il tema della recita del Rosario alla protezione dai castighi divini. Il Monforte, ve lo anticipo subito, dice una cosa che può ritenersi per molti anacronistica e cioè che se non si prega arrivano i castighi di Dio. Apriti cielo se oggi con la dittatura modernista nella Chiesa uno si permette di dir quello, se lo dice passa subito per fanatico, estremista, fondamentalista. Di fatto è un patrimonio che appartiene alla tradizione biblica e cioè che quando ci si allontana da Dio, quando non si prega più, quando si vive nel peccato si viene castigati, arriva il momento del castigo. Questo è incontrovertibile. Io non capisco perché si abbia paura di continuare a dire queste cose. Di quale ritorsioni bisogna avere paura? Dominutella ha numeri clamorosi sui social ma come vedete lo ignorano tutti e questo già basta dire come questo silenzio, questo imbargo verso il sottoscritto non è altro che l'imbarazzo e l'imbarazzo dei poteri forti mediatici e soprattutto la difficoltà a confrontarsi. Perché state certi che se chiunque altro uomo di Chiesa avesse raggiunto questi numeri senza coperture mediatiche, senza pubblicità, senza finanziamenti, ma con un semplice profilo Facebook e un normalissimo canale YouTube lo avrebbero già attenzionato. Conoscono Dominutella, sanno che esiste il Radiodomine nostra ma fan finta di nulla. Perché? Perché qui si veicola la sana dottrina cattolica. Il Radiodomine è nata per quello. Allora, ritornando al tema che ora vedremo, il Monforte dice che quando una società si allontana da Dio, come Sodoma e Gomorra, viene distrutta dai castighi di Dio. Ma io direi che c'è una forma di autodistruzione. Poi c'è per esempio Ninive che invece con la predicazione di Giona si converte. Ma se andiamo all'Apocalisse per parlare dei nostri giorni c'è la metropoli dell'anticristo che è Babilonia e Babilonia viene rasa al suolo. Quindi è un contenuto biblico, Santa Pace. Scusate, io mi indispongo e mi arrabbio perché vedo come si è ridotta la teologia e la fede cattolica per colpa della ignavia dei preti e per la vigliacchieria dei pastori. Il contenuto biblico teologico di un castigo di Dio ad una società che vive senza la grazia, che vive nel peccato, è un contenuto irrinunciabile. Non è possibile che l'affronto modernista arrivi a negare questa verità di fede perché è verità biblica rivelata da Dio e addirittura impedisca di dirlo. Per fortuna esiste Radio Domina dove queste cose vengono dette. Allora se non ci si fosse convertiti e se non si fosse tornato a pregare il rosario dice la Madonna che modernista non è e non teme certo questi quattro assalitori del patrimonio cattolico dice la Madonna che l'umanità sarebbe stata castigata da Dio. Dio avrebbe castigato l'umanità e così è andata. Il messaggio di Fatima non è portentoso, miei cari figlioli, solo io qui come vedete alla mia sinistra, alla vostra destra, o la Madonna di Fatima. Non si può rinunciare a Fatima. Il messaggio di Fatima è prorompente, è sconvolgente, ma non solo il terzo segreto, proprio tutto il messaggio di Fatima. Per esempio la Madonna appunto nel messaggio di giugno e luglio dice, le apparizioni ufficiali sono sei, dal 13 maggio al 13 ottobre e la Madonna dice appunto ai tre pastorelli che la prima guerra mondiale sta per finire ma che se gli uomini non si convertono sarebbe venuta un altro castigo divino annunciato da un segno portentoso nel cielo. Di fatto c'è stata l'aurora boreale in tutto il cielo d'Europa e quello era il segno. Poi dopo poco tempo Hitler invase la Polonia e venne fuori la seconda guerra mondiale con una stima di morti dal sapore apocalittico, si parla di più di circa 50 milioni di morti, una cifra spaventosa, orribile, tremenda. La Madonna però l'aveva detto che quello era il castigo di Dio. Oggi questo non si deve dire, non si può dire, ma bisogna far passare l'idea che Dio è solo misericordia. Attenzione cari figlioli, che questo è un proclama che Bergoglio per primo cavalca, che è assolutamente eretico. Dio è misericordia ma è anche giustizia. Tutto questo ve l'ho detto per anticipare la quarta rosa di cui parla il Monforte. Siccome però lui cita il Monforte continuamente il Beato Alano della Ruppe, volevo mostrarvi questo testo che non è in circolazione, è un regalo del carissimo, sempre ottimo Antonio Lazzaro che è apostolo del Rosario e del Beato Alano. Eccolo qui. Questo è il testo del Beato Alano della Ruppe, il Salterio di Gesù e di Maria, da cui il Monforte effettivamente, a ragione Antonio, trae parecchi spunti. Leggiamo allora la rosa quarta, stiamo commentando il segreto meraviglioso del Santo Rosario per convertirsi e salvarsi l'anima. Ogni cosa, scrive il Monforte, anche la più santa, quando dipende in modo particolare dalla volontà degli uomini, è soggetta a mutamento. Non bisogna dunque meravigliarsi se la confraternita del Santo Rosario perseverò nel fervore primitivo solo per lo spazio di circa cento anni dalla sua istituzione. In seguito essa fu quasi sepolta nell'oblio. Vabbè, però c'è Antonio Lazzare che con Don Minutella hanno ripristinato la confraternita del Santo Rosario. Non so, molti del piccolo resto boicottano quest'opera che invece, come più volte ho detto, io ho molto a cuore. Iscrivetevi, esiste il canale della confraternita del Santo Rosario che gestisce Antonio ed è importante iscriversi e far parte di questa confraternita. Noi abbiamo i pionieri del Rosario e poi c'è questa confraternita del Rosario che è aperta a tutti, uomini e donne, che non è in antagonismo ai pionieri del Rosario, ma è un'opera collaterale molto molto importante, la confraternita del Santo Rosario. All'abbandono, ecco qui il passaggio adesso che richiama, anticipa Fatima, all'abbandono del Santo Rosario, contribuirono senza dubbio la malizia e l'invidia del demonio che volle arrestare il corso delle grazie di Dio attirate sul mondo da tale devozione. Qui il Monforte dice, se per cento anni questa confraternita è esistita e ha fatto gran bene, poi è scomparsa, questa è stata opera del diavolo che ha paura del Rosario. Attualizziamo, miei cari figlioli, e vediamo come nella stagione immediatamente dopo il Concilio Vaticano II si è avuta una censura clamorosa del Santo Rosario. Paolo VI ha provato, ma secondo me in modo, personalmente lo ritengo così, con tutto il rispetto ovviamente per l'augusta persona del Romano Pontefice, ma in maniera debole. C'è stata una reazione debole, doveva essere invece molto ma molto più tenace, secondo me combattiva la reazione. Cioè è scomparso il Rosario negli anni settanta, negli anni ottanta, e io credo che i danni di quella censura li paghiamo ai nostri giorni. Aggiungo anche contro tutti i detrattori di Meggiugorie, oggi è tutta un'altra cosa da quando c'è Bergoglio, però non per questo si può negare che a Meggiugorie è passato il cielo, che grazie ai messaggi di Meggiugorie c'è un recupero della recita del Rosario, forse, io penso, non ci fosse stata Meggiugorie, nella Chiesa sarebbe scomparso il Rosario. E questa è opera del diavolo, dove scompare il Rosario nelle parrocchie è il diavolo. La scomparsa del Rosario nelle famiglie è il diavolo. È statisticamente parallelo il fatto che quando scompare il Rosario arrivano i problemi. C'è stato il sinodo sulla famiglia, qualcosa di ridicolo, di banale, di clamorosamente eretico, perché anziché proporre di ritornare al Rosario, le cose lì, queste cose i modernisti le ritengono bacchettonerie, in realtà si sono occupati di dare la comunione ai divorzati risposati e di ritenere che ci sono forme di benedizione del cielo anche per le coppie dei conviventi. Dico, ma questi si sono proprio ammattiti, Dio li ha proprio accecati. Sono accecati loro e tutti quelli che poi vanno in comunione col Papa Francesco, eretico, idolatra, apostata e falso Papa. Viene fuori un sinodo sulla famiglia dove non c'è alcun appello a ritornare al Rosario che teneva unite le famiglie e produceva le vocazioni sacerdotali e religiose e invece il sinodo viene fuori con un documento bestiale, perché è un documento bestiale a Moris e Letizia, 400 pagine di inutile verbosità che conclude col dire che si può dare la comunione ai divorziati risposati. Non lo dice chiaramente ma lo lascia intendere e che addirittura Bergoglio più volte ha detto che le coppie di conviventi sono presso a poco simili a quelle sposate in chiesa. Queste sono veramente, figlioli cari, follie mai viste prima. Invece non c'è stato alcun appello a raccomandare alle famiglie di tornare al Rosario. Il Papa dovrebbe, se fosse Papa, raccomandare istantemente ai fedeli di recitare i Rosari in famiglia. Da quando nelle comunità religiose maschili e femminili si è tolto il Rosario come recita comunitaria e poi lo si è tolto anche dall'abito religioso. Mi ricordo quando sono stato a Carcovia, al santuario di Santa Faustina Kowalska, hanno ricostruito la stanzetta dove lei viveva e dove aveva molte volte l'apparizione della divina misericordia. E c'è l'abito di Santa Faustina con tanto di corona del Rosario alla cinta. Invece le suore di Cracovia non lo hanno più perché così hanno disposto i superiori. Io ho chiesto a una suora che parlava l'italiano lì presente perché non mettessero più il Rosario. Ha stretto le spalle come per dire noi dobbiamo solo obbedire. Ma il Rosario è scomparso e questa volta il castigo di Dio come il terzo segreto di Fatima lasceva intendere non era più soltanto un castigo sull'umanità e sulla società che è una società allo sbando. Noi vediamo molto bene una società senza punti fermi, una società priva di riferimenti assoluti, è una società del tutto allo sbando, smarrita, incapace di comprendere perfino se stessa. Ma il castigo di Dio è arrivato dentro la chiesa e pastori accecati, la bizzarria, i pranzi nelle chiese, la paciamama, insomma, figli cari, veramente la scomparsa del Rosario ha caratterizzato tutto questo. È artefice della scomparsa del Rosario e senza dubbio il diavolo ha ragione il Monforte. E lui porta due esempi. Dice proprio il Monforte che se non ci fosse la Madonna di Fatima potremmo ritenerlo funesto e estremista, ma in realtà la Madonna Fatima ha detto che i castighi sull'umanità arrivano perché non si prega più il Rosario. Questi modernisti che hanno qualcosa di luciferino non riescono a accettarlo, si arrabbiano perché si domandano come sia possibile che una preghiera monotona di 50 Ave Maria possa salvare l'umanità e la chiesa. Non arrivano a capire che è l'agire di Dio questo e a Dio si obbedisce, quello che invece la chiesa odierna non fa più. Allora dice il Monforte, infatti dice lui nel 1349 la giustizia divina colpì tutti i regni d'Europa con la più orribile peste che fosse mai venuta. Cioè il Monforte dice appena è cessata la confraternita del Rosario è venuta sull'umanità una peste sull'Europa, una peste come non c'era mai stata. Ed è vero, è vero, è provato. Adesso ci sono quelli che dicono ma non è possibile che sia Dio eccetera, ma ripeto il patrimonio biblico teologico, la rivelazione è lì che testimonia questo. Partita dal Levante si diffuse quindi dall'este dell'Europa, si diffuse in Italia, in Germania, in Francia, in Polonia, in Ungheria, scrive il Monforte. Quasi tutti questi paesi furono devastati talmente che di cento uomini appena uno sopravvisse. Le statistiche effettivamente confermano questo dato, il Monforte non se lo inventa, abbiamo una decimazione incredibile della popolazione europea. Nei tre anni, perché la peste in Europa durò tre anni, che durò il contagio, le città, le borgate, i villaggi, i monasteri furono quasi completamente spopolati. A questo flaggello di Dio seguirono altri due, l'eresia dei flagellanti e il funesto scisma del 1376. Dunque, il Monforte dice allora in questa quarta rosa che se si abbandona la pratica del rosario arrivano i castighi. Ripeto, potremmo dire che si tratta di una visione funesta, anacronistica, appartenente ad una visione medievale, come vorrebbero sostenere i modernisti. In realtà, nel 1917, dunque appena l'altro ieri, la Madonna aveva detto a Fatima che se non si fosse pregato il rosario, dopo la prima guerra mondiale ne sarebbe arrivata una peggiore. E' così andata, cari figli. L'abbandono della pratica del rosario ha distrutto le famiglie, ha svuotato i seminari, ha contaminato le comunità religiose, ha spento il fervore, ha secolarizzato i preti. E' lì la rovina di tutto, l'abbandono della pratica del santo rosario. E' tutto lì, è tutto lì. Io non ho assolutamente dubbi. Continua il Monforte. Quando finalmente, per divina misericordia, queste calamità cessarono, la santa vergine ordinò al beato Alano della rupe. Eccolo lì, come vedete, si pone all'attenzione il beato Alano della rupe. L'ho detto in questo commento che da più giorni faccio al testo del segreto meraviglioso del santo rosario del Monforte, che il Monforte attinge a piene mani agli scritti del beato Alano della rupe. Illustre dottore, dice il Monforte, predicatore di fama dell'ordine di San Domenico del convento di Dinan in Bretagna. E la Madonna gli chiede allora di ripristinare la confraternita del santo rosario. Ora siamo alla terza. La prima volta la Madonna ha chiesto a San Domenico, la seconda volta l'ha chiesto al beato Alano, la terza volta l'ha chiesto al servo di Dio Antonio Lazzaro. Ciao Antonio. Così, per disposizione della Vergine, l'onore di ristabilire la nota confraternita del rosario toccò a un religioso della stessa provincia dove essa era nata. Quindi il diavolo era riuscito a far sparire la pratica del santo rosario per circa duecento anni e poi dopo i castigli che si sono abbattuti sulla terra, dice il Monforte, la Madonna è apparsa al beato Alano della rupe domandandogli di ripristinare la confraternita del santo rosario. Per compiere quest'opera il beato Alano cominciò a lavorare nel 1460, specialmente dopo che il nostro Signore Gesù Cristo, come gli stesso riferisce, gli disse dall'ostia santa mentre celebrava la messa per deciderlo a predicare il rosario. Cioè gli appare Gesù mentre celebra la messa, lui la vede, vede Gesù nell'ostia santa e che gli appare perché il beato Alano è ancora un po' titubante a diffondere questa pratica del rosario e della confraternita del rosario. Ma come? Di nuovo mi metti in croce? Che dici mai, Signore? Rispose il beato Alano spaventato. Soggiunse Gesù. Sì, sono i tuoi peccati che mi crocifiggono e preferirei venire crocifisso un'altra volta piuttosto che vedere il Padre mio nuovamente offeso dai peccati che hai commesso in passato. E anche adesso tu mi crocifiggi, poiché possiedi la scienza e quanto occorre per predicare il rosario di mia madre e con questo mezzo istruire, tener lontane dal peccato tante anime in modo da salvarle e impedire molti altri mali. Ma tu non lo fai e così sei colpevole dei peccati che si commettono. Questi tremendi rimproveri del Signore fecero decidere il beato Alano a predicare senza posa il rosario. Dunque è Gesù stesso che raccomanda di recitare il santo rosario. E il Signore aggiunge al beato Alano sei colpevole perché non diffondi questa pratica del rosario. Io credo, miei cari figlioli, che noi siamo di fronte ad una terza occasione storica nella quale o noi preti la smettiamo di star dietro a questi proclami verbosi della sinodalità, l'evangelizzazione, l'intercomunione, quelle cose lì che tanto piacciono a Bergoglio che però alla fine non trasmettono proprio nulla e torniamo invece a raccomandare nelle parrocchie, nelle comunità, nelle singole coscienze dei fedeli la pratica del santo rosario oppure assisteremo di nuovo ad una sempre più avanzata desertificazione della pratica religiosa. Il beato Alano allora dopo questo rimprovero di Gesù, a volte i rimproveri servono, mi domando come mai il Signore oggi non si presenti a noi come faceva in passato per rimproverare, forse si è arreso il Signore, voglio dire, non mi equivocate, voglio dire che ha visto a quale grado, a quale livello di presunzione, di orgoglio intellettuale, di superbia luciferina siamo oggi giunti e quindi stringe le spalle come per dire non ho cosa fare, si arrangino. La Vergine Santa, quindi non solo Gesù ma anche la Vergine Santa, gli disse al beato Alano un giorno per animarlo sempre più a predicare il rosario, queste parole le facciamo nostre perché anche noi dobbiamo soprattutto in questo mese di maggio come vi ho raccomandato ieri raccomandate il rosario a tutti quelli che incontrate, non preoccupatevi della reazione, casomai regalate il rosario, io ne ho regalato non so quanti in giro per il mondo, comprate dei rosari anche semplici, sono necessariamente questi così che magari costano un po' di più ma ci sono quelle di plastica però attenzione a prendere quelle giuste ecco e le regalate, fatevi apostoli del rosario, parlate del rosario, magari in casa dite nei condomini che fate il rosario precisando che però è in comunione con Papa Benedetto XVI, insomma facciamoci tutti apostoli del santo rosario anche voi laici come ha fatto il beato Bartolo Longo che prete non era, era avvocato eppure diventato uno dei più grandi apostoli del santo rosario, allora la Madonna anche lei appare al beato Alano della Rupe, stiamo leggendo la quarta rosa dal libro Il segreto meraviglioso del santo rosario del Monforte, tu sei stato un grande peccatore in gioventù ma io ottenni da mio figlio la tua conversione, ho pregato per te ed avrei perfino desiderato se fosse stato possibile di soffrire ogni sorta di pene per salvarti perché i peccatori convertiti sono la mia gloria, che bella questa frase della Madonna e dunque noi non dobbiamo perderci d'animo anzitutto per noi stessi perché sperimentiamo il peccato ma abbiamo una madre che è Maria che come dice al beato Alano soffrirebbe di nuovo tutto quello che ha patito e pide la croce per salvarci e perché come dice lei stessa i peccatori sono la mia gloria e per renderti degno di predicare dappertutto il mio rosario, quindi Gesù appare e il beato Alano è inizialmente titubante a fare questa roba qui e allora prima gli appare Gesù che gli dice mi offenghi e mi crocifigi se non lo fai, poi gli appare la Madonna che gli dice diffondi il rosario e di a tutti che i peccatori sono la mia gloria, ma non basta, gli appare anche San Domenico di Guzman che svelandogli i segreti dei frutti, i segreti ottenuti nelle popolazioni, scusate i frutti ottenuti nelle popolazioni per mezzo del rosario gli disse vedi il frutto che ho colto predicando il rosario e anche questo è un dato, il Monforte è serio, non è perché è devoto della Madonna come oggi i modernisti fan credere, perché oggi essere devoto di Maria, essere mariano per molti alla maniera di Ravasi, di Enzo Bianchi, questi Casper, Bergoglio, chi più ne ha più ne metta, tutti figli spirituali di Runner, oggi essere mariani è sinonimo di fanati, di fanatismo, è sinonimo di fondamentalismo cattolico, ma in realtà come vedete il Monforte qui non si inventa nulla, storicamente è vero che San Domenico ebbe una prima fase di evangelizzazione e di predicazione che gli andò abbastanza male, una seconda fase nella quale il Signore gli ispirò di creare una comunità di suore che lo assistessero, di consacrate che pregassero per lui e che recitassero il rosario e l'opera è andata bene. Ecco perché adesso apparendo, era morto duecento anni prima circa, al Beato Alano, San Domenico dice vedi il frutto che ho colto predicando il rosario? Fatelo anche voi, tu e tutti quanti amate la Vergine Santa, se volete attirare tutti i popoli alla vera scienza delle virtù per mezzo di questo santo esercizio del rosario. Conclude il Monforte in questa quinta e quarta rosa. Ecco in breve quanto la storia ci insegna riguardo all'istituzione del rosario per mezzo di San Domenico e al suo ristabilimento per opera del Beato Alano della Rupe. Un altro paio di considerazioni a margine di questa rosa. Certo le rosse sono 50, non so quante ne potremo approfondire durante questo mese di maggio, considerato che il sabato e la domenica la rubrica Santi e Caffè non va in onda, però vi raccomando di meditarlo personalmente, in preghiera, magari create dei piccoli circoli per recitare il rosario e leggere questo testo anche in streaming, ma quello che vorrei dire è che la recita del rosario dunque ancora oggi è efficace. Non servono gli slogan modernisti, non servono i tentativi portati avanti dalla sinagoga massonica, di eliminare dalla chiesa cattolica, dalla pratica dei fedeli, la devozione popolare del santo rosario. Per fortuna non ci sono riusciti e oggi c'è una riscoperta del rosario, ma il rosario veramente salva dai castighi di Dio e questo la Madonna lo ripeto lo ha detto a Fatima quando ha affermato che la prima guerra mondiale stava finendo, ma che se non si fosse pregato il rosario e non ci si fosse convertiti ne sarebbe venuto un'altra peggiore, come di fatto è andata. Credo anche, come è pure detto, che oggi il castigo stia dentro la chiesa, cioè non c'è solo una società smarrita, una società post-moderna, se si tornasse a pregare il rosario e se questa bizzarra, ridicola, banale anche, dico banale, falsa chiesa bergogliana, anziché schierarsi in favore del vaccino, si fosse schierato in favore del rosario, se i proclami messianici, di sapore messianico che Bergoglio ha pronunciato nei confronti del vaccino, tale per cui oggi il Vaticano sembra una roccaforte chiusa in se stessa, è l'unico stato nel quale la mascherina continuerà a essere obbligatoria, nel quale ancora più, in maniera bizzarra, per entrare nella Basilica di San Pietro, un fedele, se non è vaccinato e non è il Green Pass e non può entrare. Io trovo questo semplicemente la morte di Dio. Ha ragione Vittorio Sgarbi, il bizzarro, l'altrettanto bizzarro, tra loro tra bizzarri si dicono la verità. Vittorio Sgarbi, quando ha assistito, se vi ricordate, a quella pantomima liturgica di Bergoglio in piazza San Pietro, quando c'è stato il primo lockdown, vi ricordate? Lui era lì che celebrava da solo perché c'era stato il diktat del governo a rimanersene a casa e poi è venuto quello del vaccino, eccetera. Se vi ricordate, Bergoglio ha presieduto una celebrazione lugubre, semplicemente lugubre, mai vista roba simile a piazza San Pietro, mai vista una piazza San Pietro così lugubre e tenebrosa. Ma quello, diceva Vittorio Sgarbi, se vi ricordate, aveva ragione. Bisogna capire la profondità di quel bizzarro, però simpatico Vittorio Sgarbi che dice, tra una parolaccia e l'altra, dice la verità, dice il vero. Quando ha affermato, quelle immagini proclamano la morte di Dio. Cosa voleva dire? Che gli sono saltati addosso? Bisogna capirli i pensatori. Vittorio Sgarbi voleva dire quello che io sto affermando. Nel momento in cui la Chiesa, che grazie a Dio vera non è, il Papa, che grazie a Dio Papa non è, hanno deciso di sposare le preoccupazioni oltransiste di fronte alla pandemia, anziché aprirle le chiese per pregare, le hanno chiuse, lì è morto Dio. Cioè la scienza ha vinto sulla fede. E questo guardate che non è di poco conto. Se uno potesse sospettare che è sempre stato tutto un, come dire, un raggiro pensato ad arte, potremmo persino arrivare a considerare che il vero obiettivo era il trionfo della tecnica, della scienza sulla fede, considerata roba superstiziosa. Così è andata con la pandemia. I supermercati sono rimasti aperti, le farmacie sono rimaste aperte, i cimiteri sono rimasti aperti. Perché non dovevano rimanere aperte le chiese? Un'esigenza di pregare non vale quanto quella di mangiare un piatto di pasta alla carbonara, se non di più. Ecco, invece le chiese sono state chiuse. E quella è stata la morte di Dio, nel senso che Dio esiste e non muore, ma nella società persino la chiesa ha proclamato la morte di Dio. Voi sapete che il concetto della morte di Dio è un concetto tardo-illuministico che, per esempio, Friedrich Nietzsche fa proprio la morte di Dio. Dio è morto, vi ricordate in una delle sue opere, il tale che dice per la piazza, Dio è morto, Dio è morto. Ecco, questo proclama è però al limite comprensibile da parte di una filosofia che esalta il primato della scienza e considera la fede, soprattutto una fattispecie quella cristiana, una superstizione medievale. Ma che un bergoglio, una falsa chiesa, chiudano le porte della Basilica di San Pietro ai cristiani credenti che per varie ragioni, che possono essere anche quelle ideologiche, ma anche religiose e financo persino sanitarie, nel senso che in Italia statisticamente più di 350 mila italiani non possono fare il vaccino per ragioni legate al sistema immunitario, che non reggerebbe a quattro, adesso parleranno probabilmente dopo l'estate, cinque vaccini. Ma io non sto qui facendo una questione relativa al vaccino, come sapete io ho sempre detto che ognuno sceglie in coscienza. Sto dicendo che trovo singolare da un punto di vista della strategia vaticana l'aver chiuso le porte della Basilica a chi non ha il Green Pass. È un adeguamento allo spirito mondano che effettivamente dà ragione a Vittorio Sgarbi che vedendo bergoglio da solo in piazza San Pietro, quando invece in quel momento doveva essere gremita di fedeli, San Gregorio Magno alla peste di Roma rispose con una processione penitenziale che riempì le vie di Roma di penitenti e videro tutti San Michele che posò la spada come rappresentato nel Castel Sant'Angelo e invece lì la piazza era vuota, era la Vittoria. Forse Bergoglio era persino complice, anzi il forse ve lo tenete voi, io non ho dubbi. Bergoglio non è affatto credente, Bergoglio non crede, Bergoglio sta portando avanti l'agenda della massoneria internazionale che vuole distruggere la fede cattolica e offrire le strutture e le secolari istituzioni cattoliche al nuovo ordine mondiale. Io su questo come sapete non ho mai avuto dubbi, l'ho sempre detto palesemente ed è per quello che sono stato perseguitato da Bergoglio, il quale però si è trovato per la prima volta un prete che ha retto all'urto perché gli altri qualcuno l'ha fatto anche, ci sono studi che lo dicono scritti di pensatori argentini naturalmente boicottati, li ha fatti soffrire i preti che non hanno sposato le sue stravaganti visioni moderniste, li ha fatti soffrire qualcuno li ha portato anche alla morte e quindi io non ho dubbi che Bergoglio lì sposava questo progetto di mostrare al mondo intero con quelle lugubri immagini che la fede non serviva praticamente più a nulla, che doveva vincere la scena, vince il vaccino non il rosario. Ora fin tanto che indipendentemente dalla validità o meno del vaccino, perché ripeto il mio non è un discorso relativo a quello, fin tanto che noi cattolici ci convinceremo come sta facendo grottescamente la santa sede, la cosiddetta santa sede, che il vaccino sia più importante del rosario, ecco non ne usciremo. Questo è il messaggio che volevo dire. Un'altra cosa che volevo dire a margine, concludo, poi vi do spazio per le telefonate, ma leggetevelo il testo del Monforte che come vedete è molto intenso, poi vedremo se non sarà utile pensare di... per questo esiste però, editrice Ancilla, il testo di Alano della Rupe, anche quello merita, ma è veramente intenso, direi ancora più intenso per certi versi, e precede quello del Monforte, questo è del quindicesimo secolo, il Monforte scrive nel 1700, e dunque sta vicendo a margine un'altra cosa, e lo dico con l'estrema chiarezza che sempre mi caratterizza e soprattutto per l'affetto che porto a padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria. Io la mia coscienza mi è testimone che io gli voglio bene. Voglio bene a padre Livio Fanzaga perché sono Mariano e quindi so quanto Mariano sia stato ed è anche lui. Il bene che ha fatto negli anni 90 a padre Livio in Italia è assolutamente incalcolabile. Da solo, con il suo network, è riuscito, dove la conferenza episcopale per intero, quella italiana, non è riuscita. I meriti di padre Livio sono, ancora lui sta bene in salute, ottantenne, io prego ogni giorno per lui, perché i suoi meriti sono, ripeto, per quel che mi riguarda, e penso che in maniera lucida sarete tutti d'accordo con me, i suoi meriti sono assolutamente incalcolabili, guardate, incalcolabili. Padre Livio meriterebbe, il padre Livio che non è più quello d'ora, come ora purtroppo dirò, ma meriterebbe la porpora cardinalizia, dovrebbero farlo cardinale il primo padre Livio. Benedetto XVI avrebbe dovuto farlo cardinale a padre Livio. Fossi stato io il Papa l'avrei fatto cardinale, perché si diventa cardinale anche per i meriti acquisiti nel postolato, a livello Radio Maria ora è un network mondiale. Bene, pregano tre rosali, scusate, non voglio essere, voglio solo offrire una provocazione a margine, ma una provocazione benevola, non malevola. Mai malevolo nei confronti del carissimo padre Livio e della straordinaria opera di Radio Maria, per cui questo nostro profilo Facebook, che è Radio Domina, non può essere neanche in competizione. Stiano tranquilli dall'altra parte, cioè noi siamo talmente piccoli, talmente insignificanti, non abbiamo quel paninsesto e quella prospettiva che padre Livio ha raggiunto con Radio Maria, quindi non c'è assolutamente voglia di competizione. Sto soltanto offrendo una provocazione, ed è questa. Noi su Radio Domina ogni giorno mandiamo in onda i tre rosari, il primo alle sette e un quarto, il secondo alle dodici e quindici, il terzo dopo la messa. E lo preghiamo in latino, lo preghiamo in latino perché ci leghiamo alla tradizione, lo preghiamo in latino perché la preghiera in latino è la preghiera ufficiale di Santa Madre Chiesa Cattolica Apostolica Romana, lo preghiamo in latino perché la preghiera in latino è più forte come insegnano gli esorcisti. Ma si può anche pregare in italiano il rosario, nelle lingue nazionali è anche molto bello, peraltro all'URD lo si prega per esempio nelle varie lingue nazionali, lo stesso a Fatima. Quindi il problema non è che non lo si preghi in latino. Io sto ponendo un'altra questione ed è questa. Ho ascoltato a Radio Maria qualche volta il rosario, come lo fanno anche poi su TV 2000, che è un appuntamento che molte persone anziane seguono, il rosario come viene pregato. C'è il Padre Nostro in italiano che recita e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male a me. Ormai è dato acquisito che a Radio Maria i tre rosari con il Padre Nostro vengano pregati con non ci abbandonare alla tentazione. La mia provocazione è questi rosari pregati a Radio Maria con la versione del Padre Nostro alterata dalla massoneria ecclesiastica e dai modernisti. E' questo rosario pregato alla grotta di Lourdes con TV 2000, dove parimenti si dice non ci abbandonare nella tentazione. E' un rosario che sale gradito a Dio? Io mi immagino Dio padre con la barba che muove la barba e guarda e osserva e dice alla Madonna che stanno pregando. E la Madonna dice ma sono all'Urd. Scusate non voglio però è per capire. E che cosa stanno pregando? E' il Padre Nostro. Ma quale Padre Nostro? Ma questo non è il Padre Nostro che ha insegnato mio figlio. Come io posso gradire questo rosario con un Padre Nostro che non è quello che mio figlio ma che cosa si sono inventati? Il Padre Nostro? Capite? Allora io mi domando non sarà una vittoria di Satana questo Padre Nostro cambiato proprio perché inserito nel rosario, alla fine il rosario invalido, alla fine il rosario più che invalido è inutile, diciamo così, non invalido perché non è un problema di validità in questo caso ma di inutilità. Io credo che un rosario celebrato con un Padre Nostro cambiato per i capricci del gota e della cupola massonico satanista che sostituisce il nenos in Ducati in tentazione, che riprende fedelmente il testo greco e quindi non andava cambiato col non ci abbandonare a tentazione che è assolutamente come ha dimostrato Cionci in uno dei suoi ultimi articoli, anzi un po' di giorni che non lo sentiamo più, non lo vediamo più, lo salutiamo ecco, preghiamo per lui. Cambiato in questo modo io penso che Dio non lo ascolti questo rosario per quel che mi riguarda. È una grande vittoria di Satana, naturalmente io sono boicottato, censurato, a volte un po' ci soffro di questo perché io dico la verità, ci soffro non per me, ma il fatto che io dico le verità, non mi invento nulla, mi dispiace che mi trattino come se io non esistessi, non importa. Però chissà, le vie della provvidenza sono insospettabili, chissà che a Padre Livio, anziano, uomo di Dio, servo di Maria, non arrivi questo mio appello. Chi lo sa e che non rifletta e dica, ma può essere che veramente sto Don Minutella abbia ragione? Cioè tre rosari ogni giorno pregati con il Padre Nostro cambiato, secondo me rischiano, la pongo così, ho concluso, rischiano di essere inutili, resi inutili dinanzi al cospetto di Dio, come quello di Lourdes, come quello di Fatima, quando pregando in italiano si dice, in una traduzione assolutamente ideologica, per nulla aderente al testo greco e latino, non ci abbandonare. Che significa? Perché cambiare il Padre Nostro pregato così per secoli? Evidentemente è stato un capriccio del gota della cupola massonica che evidentemente ha paura del rosario, dà una mano d'aiuto a Satana. Non vorrei che i tre rosari quotidiani pregati su Radio Maria con non ci abbandonare in tentazione possano, ahimè, rischiare di essere inutili. Noi continuiamo a pregarlo in latino e se per forza di cose si deve dire in italiano non cambiate la formula del Padre Nostro e non riducetevi, cari confratelli, so che ce ne sono diversi, io non so come facciate a resistere ancora un minuto in più dentro la falsa chiesa, come quel confratello che una volta mi ha chiamato, naturalmente io non dico mai i loro nomi, così loro possono continuare a chiamarmi, hanno visto che sono fedele a questo. Anche quando racconto le loro storie, loro stanno però tranquilli perché mai e poi mai io direi chi è che l'ha fatto, da dove hanno chiamato, eccetera. E' un confratello che mi ha detto, padre io volevo sentirti caro Domi Nutella, ho bisogno del tuo sostegno, dammi coraggio, un prete più o meno della mia età. Ha detto, che ti succede caro confratello, non chiamava dalla Sicilia, chiamava dall'Italia però, e mi ha detto io devo per forza di cose per rimanere parroco, perché il Vescovo ha molta stima di me, pensate un po' che roba, pregare il Padre Nostro a Messa con quella nuova traduzione del Messale, non ci abbandonare nella tentazione. Lui ha detto, ma io sento in coscienza che questo è un Padre Nostro assolutamente ideologizzato e che non corrisponde, perché aveva anche studiato, ero un latinista, al testo greco. E io ho detto, e cosa pensi di fare? Lui mi ha detto, te mi dai un tuo sostegno spirituale perché io ho pensato che farò così. Mentre dico, per non aver problemi col Vescovo, non ci abbandonare nella tentazione, in cuor mio dirò non ci indurre in tentazione. Così si è ridotta la triste situazione nella vita della Chiesa. Ma noi impugniamo il rosario, miei cari figli, andiamo avanti. Vi ricordo questa sera alle 21.15 la Catechesi, non perdete, ve la condividete, 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 sarà una Catechesi avvincente, entusiasmante, arricchiente, spero per tutti voi. C'è già il post su Radio Domina, il titolo della Catechesi di questa sera è l'Anticristo, profezie e interpretazione. Cercheremo di vedere non solo l'aspetto biblico, teologico, ma anche quello carismatico e mistico. Eccolo qui il post, c'è il bel faccione di Don Minutella, condividetelo e così ci vediamo poi questa sera per approfondire questo tema che merita di essere conosciuto perché secondo me ci siamo, questo è quello che io penso. Adesso c'è spazio per un paio di telefonate, c'è già la prima. Pronto? Buongiorno padre, sono Francesca dal Trentino. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. La ringrazio tanto per la preghiera della purificazione dell'albero genealogico, una preghiera che ho sentito proprio forte, profonda e solenne. Sì, sì. E la ringrazio anche per tutto ciò che fa per il piccolo resto e per la salvaguardia della chiesa cattolica. E mi permetta di fare un ringraziamento particolare ai suoi collaboratori e in particolare alle soline di piccola natale. Certo, è giusto, è giusto. E proprio un abbraccio particolare a quelle che ho incontrato durante il tour, perché le ho viste molto dolci e affettuose, non solo verso di noi, ma anche hanno molta premura nei suoi confronti e veramente questo mi ha commossa. Certo. E mi permette di farle due domande? Prego. Perché mi possono apparire un po' stupide, mamma. E allora, guardi, Gesù dice nel Vangelo, prima di ascendere al Padre, io vado a prepararvi un posto. Sì. Questo posto, a causa dei nostri peccati o dell'infidelità a Dio, dopo la purificazione personale, rimane lo stesso oppure Dio lo cambia, non so. Non è affatto una domanda stupida, anzi, dite sempre così e poi vengono fuori le domande molto belle. L'altra domanda? E poi un'altra domanda, è Dio insuffla l'anima nell'uomo al momento del concepimento. E nel corpo umano c'è un luogo dove risiede l'anima? Questo meriterebbe una catechesi. Comunque grazie, ti rispondo, Dio ti benedica, santa giornata, santa giornata, sempre avanti. Mi unisco anzitutto al segno di gratitudine verso le suorine. Io non parlo mai di loro perché sono state tante volte attaccate, questa sarà un giorno una delle pagine più gloriose. Queste figlie hanno accettato di attaccarsi alla veste del padre che sta parlando e di soffrire la persecuzione mediatica. In passato la TV di Stato è andata ad aggredirle. Ho dovuto difendere la spadatratta, una di loro è finita in ospedale perché è cascata a terra con l'ambulanza a causa dell'aggressione di uno dei giornalisti. Quelle cose lì sono rimaste al loro posto e lavorano, lavorano alacremente, svolgono un'azione di servizio a piccola Nazareth, eppure hanno sempre subito tanta critica, tanta calunia. Sono molto odiate perché le forze del male sanno che sono un dono prezioso per Don Minutella e per tutta l'opera. Mi unisco quindi alla gratitudine per la compagnia di Maria. Per quello che riguarda le domande, sì, il posto rimane quello. Anche quando le nostre infedeltà ci costringeranno, diciamo così, come è molto probabile, a passare dal purgatorio, però il posto che Dio Gesù ci ha assegnato da sempre e che con la risurrezione è andato a prepararci, rimane quello. Anche se dovessimo passare dal purgatorio, non importa quanto dovremmo passare dal purgatorio, però il posto che è stato pensato per noi dopo la purificazione del purgatorio rimarrà quello. I studiosi, i teologi e anche i filosofi del passato si sono chiesti quale fosse il punto di congiunzione in noi tra la dimensione dell'anima e il coro. Naturalmente non c'è una risposta univoca e talora alcuni teologi hanno ritenuto questa domanda un po' troppo aleatoria, effimera. Io invece credo che ci si può interrogare su quello. C'è chi ha parlato della ghiandola pineale, chi ha parlato della trachea, chi ha parlato dello stomaco, chi ha parlato della mente, però chi probabilmente ci ha azzeccato è chi ha parlato del cuore. Potremmo approfondire quello, ma verosimilmente il punto di congiunzione tra anima e corpo e il cuore, anche se naturalmente con la faccenda dei trapianti poi ci si chiede se veramente sia il cuore o se il cuore va inteso più che come organo fisico, semplicemente come centro somatico, spirituale dell'essere umano. Pronto? Pronto? Buongiorno Don Minutella, Don Alessandro, salve. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo, che gioia immensa riuscire a parlare con lei. La ringrazio di cuore per tutto, guardi. È un'immensa gioia quando l'ascolto ed è una grazia divina, veramente. Grazie di tutto cuore a lei e tutti i suoi collaboratori. Grazie. Perché veramente siete un dono di Dio. Oggi è il giorno dei collaboratori, a quanto pare. Bene, bene. Io sono Martina e chiamolo a Verona. Prego Martina. E spero un giorno di avere la possibilità di incontrarla magari nei suoi tour in Italia. Allora, voglio dire solo questa. Ho tante cose da dire, però vediamo come lo cresco a fare. Allora, appunto, primo io concordo con quello che lei ha detto di Radio Maria di Padre Livio. Io è da tempo ormai che non riesco più a ascoltare Padre Livio. Perché appunto per queste sue posizioni che ha preso sul vaccino e poi ecco del Padre nostro che lei ha detto per me è intollerabile sentire. Quindi io prego Dio che lo illumini e la Madonna che lo illumini perché veramente, come diceva lei, Radio Maria è una grande ricchezza a livello spirituale cristiano. Quindi è veramente un grande dolore vedere come ad oggi purtroppo è. Poi concordo con lei benissimo quanto ha detto di Bergoglio. Io quando ho visto lockdown, quella immagine di lui solo nel piazzale mi ha veramente fatto un dolore pazzesco. Ma non tanto perché lui era solo, ma per quello che vedevo io, proprio come Gesù veniva proprio messo da parte. Poi quello sguardo truce che un Papa non deve avere nei confronti di Gesù. Io vedevo quando guardava il crocifisso quasi con rabbia, quasi con sfida nel guardare Gesù. Guardi, per me è stato un dolore pazzesco e lì poi ho capito tante cose. Dopo anche ultimamente sono riuscita ad ascoltare la sua intervista fatta con Red Roni, bellissima, meravigliosa. Guardi, fantastica, meravigliosa. Ne faccio di più di così perché veramente è meraviglioso. Oltre le sue catechesi, guardi, ascoltarla. Lei ha detto è passato tanto tempo, è stata lunga, ma alla fine, guardi, io sarei stata lì anche delle altre ore a ascoltarla. Perché veramente era molto molto interessante tutto quello che avete detto e soprattutto sarei interessata se lei riuscisse ad approfondire l'ultima parte, gli ultimi minuti con cui vi siete confrontati. Quando ha detto io sento che Gesù arriverà anche prima. Ecco, io vorrei sentire perché noi abbiamo proprio bisogno di quella spiritualità che lei diceva anche con Red Roni, il discorso delle chiese evangeliste che loro proprio guardano spiritualità. Quello che noi manca, andiamo alla ricerca veramente di capire, alla ricerca di Dio, di Gesù. Ecco, questo. Grazie, figlio la cara, grazie. Grazie di cuore, mi scusi se mi sono dilungata. No, 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 ma hai detto cose pertinenti. Dio ti benedica, Santa giornata, avanti con Maria. A presto. Grazie infinite, grazie di tutto. Dio benedica e la ricordo sempre nelle preghiere. A presto, grazie. Bisogna che si rimanga sempre molto semplici. Ho la preoccupazione a riguardo della cosa che è stata detta su Radio Maria, appunto, che forse diventando un network mondiale ha perso un po' di quella semplicità che aveva agli inizi. Non lo so se è così. A me sembra che padre Livio rimanga un uomo semplice, modesto, veramente tutto attaccato a Dio. Forse ha avuto paura di esporsi. Io non saprei quello. Quello che è importante è che se gli arrivano queste sollecitazioni non le legga lui, il suo staff, sicuramente gli arrivano queste sollecitazioni. Allora, quello che io chiedo è che rimangano pure come vogliono. L'importante è che non vedano questo come provocazioni. Perché questa è una semplice fedele che esprime il rammarico di vedere un padre Livio che, al di là del fatto che un convinto vaccinista allimita pazienza, è un affar suo, come io sempre ho detto, ognuno si fa le proprie idee. Ma quello che invece è intollerabile è che parla tanto di secolarizzazione, di apostasia della fede e finge di non accorgersi. Ecco, questo io non riesco a capire. Come fa a non accorgersi che Bergoglio è colui che governa questa apostasia? Preghiamo per quello. E poi, certo, l'intervista con Redderroni è stata molto intensa. Anch'io l'ho detto, sta facendo numeri record. La nostra fiola adesso ha detto perché padre non concede altre interviste. In realtà io do un merito a Redderroni, che è quello di avere rotto l'embargo mediatico, come oggi vi ho detto, sul sottoscritto. Io sono conosciuto dalle redazioni giornalistiche e televisive. Sanno molto bene che sono un prete che senza coperture mediatiche, come ho detto, senza finanziamenti, con un semplice profilo Facebook, fa numeri record. E quindi sanno che sono potenzialmente pericoloso, perché io non mi allineerei mai ai loro sistemi di pensiero. Per quello fingono che io non esista. Devo dare merito a Redderroni, che ha voluto infischiarsene di questo embargo mediatico. E come vedete, allora, se l'avete seguita, è venuta fuori un'intervista che, pur nella inconciliabilità delle posizioni, apre varchi di interesse che fanno capire che questa falsa chiesa parla ormai solo di roba sociale, e invece la gente cerca lo spirito. E forse Don Minutella vuole essere anche in questo un aiuto per il grande prelato, qualora dovesse Dio, speriamo, impedire che lo sia io, perché quello diventerebbe per me semplicemente massacrante dopo tutto quello che sto già facendo. Allora spero tante volte che il grande prelato sia qualcun altro. E ad ogni modo io prego per quello, che il grande prelato, e sto lavorando perché quando viene il grande prelato dopo la morte, speriamo più a tardi possibile, il vento sedicesimo, trovi una comunità di fede, che è quella del piccolo resto, che cerca lo spirito, ecco, come avviene nelle chiese pentecostali, evangeliche, eccetera. Rapidissimamente, ecco, è cascata alla linea, allora possiamo concludere qui. Vi aspetto questa sera, come vi ho detto, per la Catechesi, alle 21.15 sul canale YouTube di Radio Domina, l'Anticristo, profezie e interpretazione. Questo è il post che trovate su Radio Domina, condividetelo, in modo tale che stasera si sia in tanti a seguire la Catechesi. Vi auguro una giornata piena di pace, fate in modo che le vostre giornate siano cadenzate dalla recita del Santo Rosario. Io ne ho già pregati due, e così mi manca solo il terzo. Qualcuno chiede se i luminosi completano il Rosario, in realtà no, il Rosario nasce come misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi. Poi se uno vuole aggiungere anche i luminosi, è un'altra faccenda. Benedicat vos, Onnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Santus. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.